Da bulla delinquente, un'evoluzione rapida che ha analzato il livello d'allarme, anche perché si faceva sempre più lunga la schiera delle vittime, bambini e ragazzi adolescenti di età compresa da 11 a 16 anni. Arrestato dalla polizia 11 a 7enne, in esecuzione di fermo di indiziato di reato disposto dalla procura dei minori, provvedimento poi convalidato dal GIP. L'accusa nei confronti di questo ragazzo di nazionalità marocchina è di estorsione, rapina, furto e violenza privata. Scenario l'istituto scolastico che egli, ma anche le vittime frequentavano. All'inizio furono atti di bullismo, richieste di utilizzo del telefono cellulare, pretesa di favori di vario genere, insomma soprusi ma non reati. Poi il salto di qualità. A ottobre e novembre il bullo minaccia ragazzini più piccoli di lui per farsi consegnare somme di denaro e siamo all'estorsione. A novembre costringe un bambino a tenere un comportamento che non avrebbe voluto tenere ed è violenza privata. Impone ad un altro ragazzino, sempre con l'arma della minaccia, di prelevare somme di denaro dal conto corrente della madre e si fa consegnare 1500 euro. Ruba il telefono cellulare ad un ragazzo mentre sottocarica a caso di un amico comune e pretende 50 euro per restituirlo. Per lungo tempo le vittime non hanno avuto la forza di denunciare e quando la polizia, ricevuta le prime segnalazioni, cominciano ad indagare non trovano riscontri né collaborazione. Ma la sensazione che fosse la paura di ritorsione ed impedire il racconto della verità si manifesta con chiarezza, sì che le indagini proseguono. Fino a quando la verità è accertata e a causa della gravità di comportamenti in essere, pressoché quotidiani, la procura dei minori agisce in fretta e mettendo fermo di indiziato di reato. Il 17enne, arrestato dalla squadra mobile, è stato accompagnato nel centro di prima accoglienza di Catania e dopo la convalida del provvedimento da parte del GIP nel carcere minorile di Catania.